Quello che vedete è un ponte di bambù, io sono Andrea Bruno e sono sul famosissimo ponte di bambù e cammino con le ciabatte. Guardate, con le ciabatte sto camminando sul famosissimo ponte di bambù, questo bambù è scivolosissimo, un mio piede potrebbe slittare e io finire incastrato tra i bambù e farmi malissimo, un male veramente pazzesco e rovinarmi in mezzo a questi bambù. Ecco qua, un piede dopo l'altro, camminiamo sul bambù scivolosissimo tenendo la macchina fotografica in mano. Chiaramente per me non è un grandissimo rischio, sono un grandissimo abile pattinatore, potrei andare su una parabolica, fare un salto, una piroletta in avanti e indietro e ricadere perfettamente in verticale, quindi per me il bambù è uno scherzo.